Chiedo un commento su questa terza amichevole prestagionale, un 2-2, non so se vuoi commentare prima il risultato e poi la prestazione. Il risultato mi spiace per i due gol presi, soprattutto il primo, perché insomma difesa schierata, prende una palla in profondità così, non è da noi ecco, però è anche vero che veniamo da due giorni dove li ho messi diciamo un po' in difficoltà dal punto di vista fisico e oggi in tanti interpreti si è visto insomma ecco ma è normale insomma ecco però ho visto anche tante altre tantissime cose buone, abbiamo fatto delle azioni veramente importanti che forse meritavano anche qualcosa in più dal punto di vista numerico, però andiamo a lavorare, continuiamo a lavorare, sono contento anche in questo momento di avere del materiale su cui andare a migliorare in settimana perché iniziavo già a preoccuparmi, perché dico facciamo due partite, una vinciamo cinque, una quattro, in questo periodo qua se vai troppo bene dopo inizio del campionato invece vedi è arrivato puntuale il giustamente in questo periodo, ci sono sicuramente delle cose da andare a mettere a posto, delle situazioni da andare a migliorare e altre cose che vanno bene, che vanno consolidate, e quindi insomma fa tutto parte del percorso che stiamo facendo, del percorso di crescita che stiamo avendo per arrivare alla prima di campionato in condizioni ottime. Se lì tu rientro con la parata su rigore? Sì gli ho detto io però, conosco il ragazzo, sapevo che incrociare, gli ho detto io da là, mi ha ascoltato per fortuna, no è stato bravo, è rientrato bene, dai sicuro coi piedi, insomma quindi siamo tutti contenti, dopo è normale, ha cinque mesi anche lui che non sentiva la porta, che non vedeva la porta, quindi sicuramente anche se non l'ha dato a vedere avrà avuto le sue difficoltà anche lui. Siete i gol di Giorgio? Belli, belli. Allora il primo mi ha fatto una grande azione, mi ha messo una palla importante, il secondo ha fatto un euro goal, insomma lui, l'ha fatto lui. Dopo abbiamo avuto anche tante altre occasioni, due o tre abbastanza nitide al primo tempo, su veramente dei belli scambi, delle belle azioni, davanti si cercano, si vogliono, si trovano, insomma bisogna andare, bisogna continuare a lavorare, e andare, ripeto, andare a cercare di sistemare, di migliorare quelle cose che magari oggi si sono evidenziate in maniera negativa, insomma, ma con la giusta tranquillità.